Dire sia fatta la tua volontà, afferma il Papa, presuppone la fede in un Dio che si prende cura dell'uomo e del mondo, su cui ha un preciso piano di salvezza, e continua. Dio non è ambiguo, non si nasconde dietro ad enimmi, non ha pianificato l'avenire del mondo in maniera indecifrabile, no, lui è chiaro. Se non comprendiamo questo, rischiamo di non capire il senso della terza espressione del Padre nostro. Infatti la Bibbia è piena di espressioni che ci raccontano la volontà positiva di Dio nei confronti del mondo. Noi non siamo schiavi ma liberi e ci rivolgiamo al Padre come figli e lui non ci abbandona mai, ma, dice Francesco, il Padre nostro è anche un invito all'azione. Una preghiera coraggiosa, anche combattiva, perché nel mondo ci sono tante, troppe realtà che non sono secondo il piano di Dio. Tutti riconosciamo. Trafrasando il profeta Isaia potremmo dire, qui, Padre, c'è la guerra, la prevaricazione, lo sfruttamento, ma sappiamo che Tu vuoi il nostro bene, perciò ti supplichiamo sia fatta la Tua volontà. Signore, soverti i piani del mondo, trasforma le spade in aratri e le lance in facci. Che nessuno si eserciti più nell'arte della guerra. Dio vuole la pace.